Musica Oggi la prima proiezione a Palermo presso il Palazzo Zino della Passione di Cristo è un mediometraggio realizzato dal regista Andrea Forte Calotti che dura appunto 40 minuti e realizzato da 19 ballerini della Scala di Milano il protagonista è un siciliano di Cerami e Nino Sutera cosa ci dice di questo mediometraggio e ci racconta? È un'opera culturale, cinematografica e anche di danza di altissimo livello ed è un'esperienza unica per gli spettatori sia a livello emozionale che a livello spirituale al di là del credo che ognuno professa si tratta appunto di un mediometraggio 40 minuti di passione nel linguaggio universale della danza domani verrà proiettato a beneficio di tutto il pubblico palermitano e non per la prima volta in Sicilia alla sala De Seta dei Cantieri Culturali della Zisa vi aspettiamo ci sono musiche e coreografie originali le musiche curate dal grande artista Gabriele Semeraro e le coreografie curate dal primo ballerino del teatro alla scala Mick Zeni è un plauso all'ideatore e al regista Andrea Fortecalatti che come noi auspica una piena divulgazione del film che ha l'obiettivo principale di fornire un supremo esempio di umanità e quindi anche migliorare il rapporto tra uomo e società questa è la missione principale del film come e da chi è stato finanziato il film e soprattutto come lo manderete in produzione il film è stato prodotto e finanziato dall'associazione arte e comunicazione con 180 mila euro finanziate dall'associazione e questo bellissimo film non ha una casa di distribuzione quindi siete voi ad aiutarci a distribuirlo attraverso le vostre donazioni abbiamo indetto una campagna di crowdfunding quindi di donazioni che è già iniziata in tutta Italia e anche all'estero per la distribuzione del film in tutto il mondo visto che è nel linguaggio universale della danza e può essere compreso da tutti con il suo linguaggio bellissimo e diretto aiutateci e sostenete domani verrà proiettato alla Zisa la Passione ecco il Comune ha avuto diciamo un suo ruolo in questo progetto ce ne parla? sì il Comune sta dimostrando una grandissima sensibilità nei confronti della danza infatti la Passione è un video di altissimo livello fatto appunto con i danzatori del Teatro alla Scala di Milano regista Andrea Forte Calatti per cui ci è sembrato opportuno trovare un posto degno in cui proiettarlo e in questo caso appunto il cinema pubblico che abbiamo ai Cantieri Culturali è un posto che sicuramente si presta bene per questa proiezione inoltre l'amministrazione sta dimostrando una notevole sensibilità nei confronti della danza e infatti oltre alla Passione domani verrà proiettato anche il video di uno spettacolo creato da un coreografo Alan Danielson che era il direttore del Limonino Institute di New York che ha lavorato proprio in Sicilia e ha reso omaggio con la sua opera nel 2005 a Palermo per cui questo spettacolo Natura vedrà proprio realizzato questa grande ovazione per così dire nei confronti della nostra natura, del carattere dei siciliani ed è stato realizzato proprio con dei danzatori siciliani che saranno presenti domani in sala quindi come lui ha fatto un omaggio a Palermo noi vogliamo ringraziarlo dedicandogli questa serata Il Comune di Palermo l'anno prossimo aprirà il primo liceo di danza in Sicilia è un progetto realizzato insieme con la provincia di Palermo e il 29 aprile a quanto pare si apriranno le iscrizioni? Sì, infatti il Comune in sinergia proprio con la regione e la provincia ha seguito questo progetto che partirà a settembre quindi ci sarà il primo liceo di danza in Sicilia insieme a Caltanissetta le iscrizioni sono possibili sino al 24 e l'audizione sarà il 29 aprile nella sala di danza del Teatro Politeama alle 10 e mezza con una docente che verrà dall'Accademia Nazionale di Danza di Roma con cui il liceo Regina Margherita ha instaurato una convenzione per cui sì, anche questo è un grande progetto che abbiamo portato a termine Per entrare al liceo bisogna comunque già avere fatto i primi passi di danza? Bisogna avere le basi, le basi e poi penso che la Commissione guarderà molto anche le potenzialità della danzatrice o del danzatore per cui anche se magari non hanno studiato molto però si vede che sono dei talenti naturali probabilmente possono accedere Grazie a tutti